E' tornato, gli mancava l'accendino. A tradirlo è stato un accendino che era tornato indietro a comprare per accendersi una sigaretta dopo un furto in una tabaccheria. Un bandito è stato infatti sorpreso letteralmente con le mani nel sacco dal proprietario dell'esercizio commerciale in via Trasimeno, in zona Saione, immediata periferia del centro storico Aretino. Ha preso un sacco, se l'è riempito con queste sigarette che aveva qui nella scansia e è andato via. Io e un'altra persona stavamo aspettando i carabinieri che li aveva avvisati e è tornato a comprare l'accendino al distributore. Aveva comunque con sé il sacco con le sigarette piene o schede telefoniche un po' di spiccioli, arrivati anche i carabinieri e l'hanno arrestato. E' successo nella notte di Pasqua, torna alle 2. Non si tratta però del primo colpo messo a segno alla tabaccheria. Lo scorso venerdì il primo assalto, alcuni malviventi si erano introdotti all'interno del locale forzando la saracinesca e mandando in frantumi la porta. Si vede dalle immagini della telecamera due persone che tirano il bandone facendo un foro davanti al distributore automato di sigarette, da quel foro è entrato dentro e aveva preso tutti i gratte e vinci esposti. Sicuramente c'era 2-3 mila euro di gratte e vinci, poi un po' di soldi hanno trovato quella volta lì. Suona l'allarme, sicché loro i 2-3 minuti di tempo che presumono di avere e se ne vanno. Domenica notte l'ultimo blitz a tre banditi sono infatti passati per la porta provvisoria montata dopo il colpo precedente. Sapevano che la porta non c'era più, il forellino era facile da entrare, sono rientrati dentro. Erano in tre persone che hanno aperto sempre il passaggio sulla saracinesca, però quello che è entrato è sempre stato uno solo e presumibilmente dalle immagini sembra che sia sempre la solita persona. La fortuna è che ieri la festa è stata dentro una notte in più, ma come purtroppo si sa la nostra giustizia in giornata sicuramente lui è già fuori. Stanotte ho quasi l'intenzione di dormire qui perché so senza porta e purtroppo ci vuole qualche giorno per rifarla perché la porta è in vetro temperato, si vive malissimo. Grazie.